buongiorno c'è un tempo di merda altro che buongiorno il congelamento niente io sono andata in coma mi sono svegliata a luna e adesso mi faccio un brodino sì il brodino sono facendo la dieta del brodino io 18 tengo matrimonio devo entrare nel mio tailleur tailleur ci entro però ci entro in modo troppo esplosivo cioè c'ho sei due mammelle che sono troppo prepotenti quindi allora devo un attimo sgonfiare il tutto devo fare uno sgonfiamento così entro in questo tailleur e posso andare al matrimonio di my best friend e boh guardate che tempo di merda lo stendino fuori che la roba non si asciugherà mai 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 sono le due 23 alle 15 e 30 devo andare a prendere i miei figli a scuola con questo tipo di merda poi devo preparare mia figlia che deve andare al compleanno e la madama si arrabbierà molto con la mamma perché non potrà mettere il vestito che avevamo pianificato perché c'è un tempo di cacca mi dispiace figlia mia ma io ti voglio sana sana e a scuola quindi metteremo qualcosa di più per questo clima e poi andremo in questo bellissimo posto pieno di bambini urla bordello dove il mio cervello scoppierà dove ci saranno torte pasticcini che io non potrò toccare minimamente quindi li guarderò così e dirò ah 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 però penserò al mio tailleur e niente fino al 18 maggio non si mangia in poche parole solo brodo brodo e omogenizzato brodo e omogenizzato brodo e omogenizzato finché non si muore ecco poi il 18 mi mangio pure la sposa e lo sposo madonna che freddo che fa madonna che freddo che fa che freddo che fa dove si va tra l'allero tra l'allero comunque andiamo a vedere se c'ho il mio brodino brodino no non c'ho il brodino lo devo andare a prendere allo scapuzzino voi direte ma tieni il brodo ma io mi sembro una che faccio il brodo artigianale io tengo knorr io sono la signora knorr magari fossi la signora knorr sapete quanti piccioli knorr è comodissimo questo brodo eppure con poco sale voi prendete una bella tazzariella questa bella tazzona di starbucks di parigi e lo mettete lì poi prendiamo un bello omogenizzato allo prosciutto un cucchiaino di parmigiano buonissimo poi nel pomeriggio una bella tazza di latte schremato e la sera di nuovo il brodo se state proprio crepando che state rendendo l'anima al cielo vi fate una bull di insalata delle zucchine grigliate verdura verdura e in questo modo in meno di un mese vedrete volare dai 5 agli 8 chili così naturalmente se dopo questa dieta mensile iniziate a mangiare se ne avete persi 8 ne prendete 16 io ve lo dico già quindi dopo dovreste fare una dieta normale mediterranea sulle 14 calorie allora poi non riprendete i chili persi e magari sicuramente ne perdete dai 2 ai 4 al mese però questa vi smorza se avete un impegno come me capito andiamo a far su brodo va il brodo è fatto buonissimo si si così chi bella vuole apparire deve soffrire o se no si deve impegnare tutto l'anno come fanno tante persone con la palestra la dieta se fai come faccio io sei uno io 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 in poche parole ti allarghi ti stringi ti stringi io sono fortunata che ho di genetica una pelle meravigliosa che non si rovina mai quindi però adesso basta 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 giuro solennemente su questa forchetta che se riesco a stabilizzare entro i primi di agosto i miei 65 68 chili rimango ferma lì e ne smuovo più dal mio peso forma perché quello è il mio peso forma così dovete tenere conto che tengo tengo il muscolo tengo un pietto tengo un mappamundo certe forme vanno tenute bene belle toshte toshte e nulla vediamoci sto brodo va il il cosa al prosciutto non mi piace è omogenizzato al prosciutto sapete non mi piace mi sa che me ne faccio un'altra tazza con quello che uso di solito al vitello non mi piace sto omogenizzato al prosciutto non mi piace niente l'ho rifatto perché quel omogenizzato al prosciutto fa proprio schifo cara nipiol il vostro omogenizzato al prosciutto fa cagare e niente qua ho perso la mia me l'ho fatta c'è poca unghia quindi si stacca crescerà vabbè ma è già cresciuta tanto eh in confronto tenete conto che si era staccata da dentro eh quindi non vi dico comunque che pace vizia sono le tre meno un quarto adesso mi bevo sta tazza mi sistemo un po' il trucco faccio ancora le liner di ieri che ieri non ci starebbe bene un bel lifting così eh ma cinquant'anni me lo faccio il lifting scherzi ah si assaggiamo adesso eh adesso si adesso si senza quel prosciutto adesso si niente vi saluto cari e care au revoir au revoir ciao